e ci siamo iniziamo questo video in questo modo e bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video finalmente abbiamo un segnale di ripresa importante sui mercati delle criptovalute avevo accennato la questione sul mio canale telegram nella giornata di ieri pomeriggio e tac è arrivato il super pump di bitcoin ancora non è importante è leggerino però oggi è una giornata super rock ragazzi e quindi vai col cripto stay cripto bene ragazzi allora andiamo a fare un super aggiornamento generale di tutta quella che è la situazione attuale ovviamente era giusto anche festeggiare oggi e quindi essere diciamo un pochettino più più felici per questo rimbalzo delle cripto era a tesona nell'aria all'inizio del nuovo ciclo mensile ne abbiamo parlato abbondantemente negli scorsi video stiamo aspettando anche da un po' che il mercato ci dia il segnale di ripartenza del nuovo ciclo annuale di cui abbiamo parlato per circa tre mesi negli ultimi video questi sono i primi segnali del mercato manca però ancora un livello da superare per avere un po' più di tranquillità che si è iniziato un nuovo ciclo annuale dal minimo di giugno questa è l'ipotesi principale ne abbiamo già parlato negli scorsi video però oggi andiamo a fare il briefing di tutto quello che è successo anche ieri perché io ero davanti al grafico proprio stanotte ragazzi perché alle due ora italiana quindi le 00 utc mondiale quindi a mezzanotte mi sono scattati una serie di segnali di ingresso long proprio prima del pump perché ragazzi è tutto normale cioè relativamente a queste cose perché chiusa la candela settimanale chiusa la candela daily ovviamente moltissimi trading system e moltissimi sistemi moltissimi istituzionali con le macchine attive fanno le operazioni quindi il pump è scattato pochi minuti dopo proprio per questo motivo perché sono andati in liquidazione una serie di operazioni in short proprio perché durante la close della settimana proprio stanotte a mezzanotte utc quindi le due italiane sono andati a scattare una serie di segnali long come sono scattati a me su tutti i training system pubblicati anche nella nell'academy sono scattati un po' probabilmente tattissime altre persone nel mondo e questo hanno dato il via a una serie di ingressi long fino al tic famosissimo quando è scattata la copertura degli short quindi gli short sono stati chiusi circa se non sbaglio un miliardo adesso non vorrei sbagliare ragazzi però su binance addirittura c'è stato un super pump anche sui sui future insomma eccessivo quello perché i derivati ragazzi sono in queste fasi sempre molto peggio dei mercati spot in quanto fanno oscillazioni fuori dalla normale quindi sono scattate le ricoperture degli short la benzina dei long sono proprio le ricoperture degli short e vai con il liscio abbiamo spondato di brutto anche la resistenza 35.750 35.008 che era la resistenza della settimana in questione proprio è iniziata insomma dopo due minuti che è iniziata la settimana si è spondato subito questa questa resistenza e siamo andati a fare questo super pump allora io ho preparato una serie di grafici da andare a vedere perché dobbiamo tirare su quelle che sono le i livelli quindi analisi tecnica analisi ciclica tutti quelli che sono i livelli di resistenza attuali e anche che cosa potrà fare il mercato nei prossimi giorni perché in realtà sta chiudendo un primo ciclo settimanale già ve lo anticipo del nuovo ciclo mensile del mercato e poi andremo a vedere anche il grafico della market cap perché è arrivato al livello che vi avevo indicato nell'ultimo video proprio lì si è bloccato insomma si è fermato perché quello il livello di esistenza del mercato in generale importantissimo sguiciato quel livello ragazzi si passerà in un trend di breve periodo al rialzo quindi il primo segnale di inversione del mercato cripto da due mesi circa due mesi e qualcosa ok allora prima di andare avanti come sempre ragazzi io vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi do anche l'upgrade relativo al mio nuovissimo canale instagram dove ho pubblicato anche stanotte l'operazione log di un trade system e proprio ero lì ragazzi voleva un po di verb allora l'ho pubblicata va bene allora vi faccio vedere quelle che sono il i grafici che andremo a vedere oggi partiamo però non da quello relato alla ciclo settimanale alla grafico settimanale ma quello classico del eccolo qui non lo trovavo più allora quello classico della fase ciclica mensile che seguiamo praticamente ormai da anni sul su bitcoin sui mercati e le cripto allora mi aspettavo la chiusura del ciclo mensile come sempre insomma intorno alla fine del mese di luglio è arrivata il 20 luglio leggermente in anticipo rispetto a quello che era la sua normale struttura perché il precedente ciclo mensile era iniziato il 22 di giugno quindi poi il 22 di luglio doveva chiudere i famosi 30 giorni ha chiuso a 28 giorni niente di di che sono un ciclo mensile assolutamente pulito preciso l'unica cosa che è andato a disegnare un triplo minimo con i precedenti allora abbiamo un livello toccato il 19 maggio di minimo sul grafico di bitfinex che utilizzo per fare questo tipo di analisi 29 5 63 poi abbiamo il minimo reale da un punto di vista assoluto che 29 2 47 e poi abbiamo questo il minimo fatto qualche giorno fa 29 3 e 13 sono tutti gli stessi ragazzi secondo me ok quindi andare a pensare che 100 dollari su bitcoin con questo tipo di mercati siano un differenziale secondo me non ha molto senso allora in questo caso il mercato ha fatto un triplo minimo però da un punto di vista ciclico potrebbe aver chiuso il ciclo annuale o sul minimo del 22 giugno o sul minimo del 20 luglio questa problematica ce la riporteremo per tutto l'anno già ve lo dico perché molti di voi saranno è però poi non sappiamo l'ultima volta si è parlato si è spostato alla chiusura del ciclo annuale da marzo fino a giugno quindi tre mesi in questo caso ci sarà anche un mese in più da andare a creare insomma questo questo sbaglione questi errori di calcolo che ci porteremo praticamente se qui è iniziato effettivamente il nuovo ciclo annuale come ci aspettavamo ce lo riportiamo fino a un anno questo tipo di questione qua ragazzi da questo mentire va bene dal punto di vista pratico però c'è una questione allora intanto ciclo mensile sicuramente iniziato il 20 luglio su questo dubbi non ce ne sono anche perché il mercato ha fatto il break di questo livello qui che erano i 34 e 2 breccato questo il nuovo ciclo mensile era praticamente dato per certo ragazzi poi con il break del massimo del precedente ciclo che è questo qui il massimo era a 36 e 6 quindi è avvenuto proprio nella famoso pump di questa notte dopo la chiusura del daily qui praticamente ha indicato insomma la conferma ufficiale proprio quella teorica insomma da lezione classica però ovviamente inutile da un punto di vista operativo perché poi qui potremmo insomma si poteva prendere posizione solo esclusivamente per operazioni di lungo periodo non di breve di breve erano da prendere precedentemente allora questa fase qui da un punto di vista di ciclo mensile quindi siamo in un nuovo ciclo mensile però da un punto di vista di ciclo annuale fin tanto che questa zona non verrà breccata al rialzo quindi 41 mila dollari e giù di lì io come sempre darei un po più spazio comunque un break con chiusura daily sopra il 41 e 2 sicuramente darà il via a una serie di close di altre operazioni short selling e quindi ci sarà un super pump se arriva lì il mercato ragazzi e brecca in prossimità di una chiusura daily questo 41 mila dollari allora aspettate aspettatevi un altro super pump perché probabilmente moltissime operazioni short verrebbero chiuse e si si rivedrà questo stesso meccanismo c'è da dire che io sulla mia accademia nell'operazione che stiamo trattando perché dalla mese scorso stiamo facendo una tipologia di trading con una operazione mensile ragazzi ho ideato questa logica che mi piace tanto l'abbiamo fatta due volte giugno è andata così così abbiamo guadagnato ma potevamo fare meglio lui è andata benissimo invece perché siamo andati a prendere praticamente la parte bassa della del del mese quindi facciamo un'operazione mensile per cercare di portare a casa il maggior profitto possibile utilizzando sei indicatori miei personali che ho creato è un esperimento nuovo ragazzi è solo il secondo mese che lo facciamo però devo essere sincero mi piace tantissimo perché lascia molto tempo ai traders di fare altre cose perché facciamo una sola operazione in pratica o comunque la costruiamo all'interno del mese quindi mi piace tantissimo questa operatività vediamo se nei prossimi mesi continuerò a farla e se la riusciremo anche ad abbellire proprio in academy facciamo questa cosa secondo quella operatività da un punto di vista di breve periodo entro la fine del mese quindi mancherebbero quattro giorni il mercato potrebbe avere un po di difficoltà a continuare questo pump se lo fa sopra i precedenti massimi che sono 39 e qualcosa potrebbe farlo di pochi punti percentuali questa è la logica perché per quella tipologia di operatività che è un'operatività di un mese poi per il mese di agosto si costruirà una nuova operatività e tecnicamente siamo arrivati al take profit quindi quell'operatività a doveva essere chiuso questa notte io non l'ho fatto ragazzi perché ero stanco morto allora uno utente dell'academy mi ha detto che ha chiuso perché ha seguito alla lettera quell'operazione e ha fatto benissimo io l'ho scritto anche insomma però io ho detto devo ragionarci ci ragionerò in questi giorni quindi ancora non ho deciso questa cosa per operazione di brevissimo però ragazzi solo quelle che riguardano il mese mentre le altre restano ovviamente tutte in costruzione long proprio per la questione che vi ho spiegato nel video sui miei investimenti cioè l'obiettivo quello di prendere una nuova fase se dovesse avvenire allora conferma ufficiale solo al break di questa zona per quanto riguarda il ciclo annuale e buona probabilità che il ciclo annuale sia stato chiuso in questa zona qui perché il mercato sono lasciato dato la reazione anche a livello tempistico ci siamo però mancherebbe un ultimo sforzo che potrebbe essere fatto magari nel mese di agosto vedremo insomma da questo punto di vista allora tutto segue insomma questa logica ragazzi il livello di resistenza principale secondo la struttura di analisi tecnica è questo quindi 41 42 mila dollari e poi dal punto di vista di analisi ciclica siamo alla prima fase di del ciclo mensile in questione che è un settimanale perché 1 2 3 4 5 6 giorni quindi probabilmente entro il prossimi 1 2 giorni il mercato potrebbe avere una giornata di riflessione proprio per la chiusura di questo ciclo intermedio che si chiama ciclo settimanale però ragazzi non ci perdiamo in questi calcoli altrimenti veramente insomma diventa complicato perché quello è trading vero poi insomma quasi in tradenza ma quindi non ne parliamo di queste cose allora un punto di vista invece di struttura settimanale vedete in maniera molto chiara quello che è successo questa notte come vi ho anticipato nella preview di questo video allora la conferma di questo settimana verde con il break del precedente massimo quindi un segnale di inversione perché il mercato aveva fatto anche una shadow ribassista in concomitanza con le strutture cicliche insomma ha dato il via adesso vi caccio questa cosa la elimino così si vede meglio ha dato il via al pump perché sono stati chiusi una serie di short quando il mercato nei primi minuti dell'inizio di questa candela settimanale ha fatto le prime reazioni salendo a 35 7 a 35 7 qualcosa sono scattate le coperture ero proprio davanti al grafico ragazzi quindi ha fatto boom subito istantaneamente facendo una super candela verde anche qui è evidente proprio in maniera chiarissima che questo è il livello più difficile in questo momento da battere quindi sempre tra 41 e 42 mila dollari probabilmente il mercato lo sposterà nelle prossime settimane o qui o qui dipende un po dalla volontà che il mercato ha insomma di fare queste fasi successivamente ad un eventuale superamento di questo livello la prossima resistenza poi sarà intorno ai 48 mila dollari questa è la struttura per quanto riguarda invece i supporti restano identici ai precedenti perché qui siamo ancora nella struttura di barra di congestione che ha tenuto il mercato fermo per un paio di mesi oddio che ho fatto ok quindi questa struttura di barra di concessione ancora è valida perciò i livelli di supporto sono sempre quelli che vedete in questo caso quindi il primo a 34 circa mila dollari qui e poi c'è il minimo storico relativo di questa fase che questa zona che è esattamente 29 mila e 5 29 mila dollari spostiamoci sul grafico della capitalizzazione totale della market cap totale del mercato quello che vi ho fatto vedere la scorsa settimana per spiegarvi quando era il caso di iniziare a spostarci di nuovo sulle altcoin e si è fermato proprio esattamente sul livello che vi avevo indicato il livello di resistenza più importante proprio perché cambia radicalmente quella che la struttura discendente in questo caso ragazzi cosa sta a indicare questo questo livello di un trilion e mezzo sta a indicare che il mercato sta invertendo il trend di breve periodo da un trend discendente dell'intero mercato cripto che è stato fatto qui a un trend nuovo questo superamento ha invertito la catena dei massimi decrescenti non dei minimi ancora perché non abbiamo uno swing a ribasso ma dei massimi sì perché il precedente massimo è stato breccato in questo caso però si è fermato proprio in sui livelli della resistenza quindi in realtà questo non è un vero break della resistenza ma c'è andato vicino quindi direi che sicuramente nel breve periodo il trend dell'intero mercato cripto è tornato a è invertito poi non sappiamo ancora se è rialzista perché perché manca uno swing al ribasso e poi un eventuale fase di break del precedente massimo quindi ci manca questa fase qui probabilmente avverrà appunto nelle prossime settimane come vi stavo vi stavo dicendo e da lì e poi andremo a capire un po' se sarà il caso di prendere posizioni anche su altre criptovalute anche magari su altcoin a parte th che ovviamente quella è sempre presente andiamo a vedere a questo punto anche e th ragazzi ed eccolo qui il grafico di e th anche lui nella stessa identica situazione di bitcoin vi faccio vedere la questione legata a bitcoin però se notate c'è una differenza leggera perché e th resta sempre più forte anche se in questa fase non è stato molto più forte di bitcoin ma da un punto di vista di atti quindi di analisi tecnica questo questa cripto è più forte perché si è già riversata sul massimo della barra di congestione che non ha neanche avuto e th perché ha avuto soltanto questa questa vi praticamente ribassista mentre invece se andiamo a vedere bitcoin ancora manca un pezzettino quindi dovrebbe essere intorno ai 41 per essere nella stessa situazione di e th e th è proprio a livello chiave rotta questa fase mi ricordo nella nell'ultima live abbiamo fatto con gli avengers scritto ho detto se qualcuno di voi se la ricorda quella live 2004 su e th rotti e breccati danno il via a una nuova fase di di pump perché perché un livello chiave quello proprio per iter e questo è fondamentale proprio da superare anche per questo motivo vediamo la total market cap che è in questa situazione perché dipende molto molto da ethereum e da bitcoin la total market cap del del mercato ragazzi ok quindi e th nuova fase anche lui ha chiuso questo ciclo mensile in questo punto molto più corto in questo caso rispetto a bitcoin però anche qui c'è stata molta oscillazione fra questa fase del 22 giugno e poi questo minimo leggermente inferiore del 26 ma in realtà appunto è una fase ciclica è la stessa cosa sono tre giorni ragazzi non cambia niente soprattutto su mercati molto volatili allora livello chiave di e th il superamento non di questa zona ma leggermente più su questa zona qua i 2004 se verrà black mercato questa zona è confermato in cross daily probabilmente assisteremo ad una nuova ondata rialzista con una non molto pronunciata ragazzi non mi aspetto dei super fan per una bolla poi i mercati cripto sono un po così ok questa zona fatta in questo modo però sicuramente potrebbe avvenire un posizionamento all'interno di questa fascia di prezzo 2009 2004 questo per quanto riguarda e th bene ragazzi siamo alla fine di questo video vi ho fatto vedere quelle che sono le esistenze i supporti la nuova fase questa nuova nuovo momento delle cripto cosa succederà andiamo in super pump facciamo nuovi massimi tutte idee che non hanno motivo di esistere in questo momento perché quello che bisogna fare è andare a razionalizzare quello che sta succedendo avere pronte le armi ragazzi è ovviamente non mi nascondo che tutta questa fase è stata difficile da gestire anche per le posizioni che erano in portafoglio ma alla fine siamo riusciti diciamo anche a salire su questa zona veramente complicata andare a diciamo pulire tutte quelle che non le informazioni per capire che cosa stava o poteva succedere nei giorni successivi da un punto di vista di fase di mercato ora andare a ragionare a dire parte la nuova fase arriviamo a 100.000 sono tutte idee senza senso quindi ragioniamo punto per punto giorni per giorni perché il mercato in questa fase deve ancora segnare una serie di punti chiave 41 42 per bitcoin 2004 per etiaco 2004 2005 chiaramente sempre ragazzi date spazio ai mercati e deve indicarci che con un break di quel tipo è iniziato il nuovo ciclo annuale se indicherà questo tipo di fase che ha una buona probabilità adesso insomma di essere quella perché l'aspettavamo da un po il mercato ha avuto la sua reazione insomma la settimana decisiva da quella scorsa l'abbiamo visto abbiamo fatti video è stato tutto corretto diciamo è andato a fare proprio il minimo quindi la la fase proprio di di basso ha creato il suo minimo relativo di periodo adesso devo dare le altre indicazioni agosto ancora è alle porte quindi andremo poi a probabilmente si svilupperà un po tutto entro agosto se il mercato esagera questa fase allora ragazzi non vorrei perdere la scommessa ma non credo sono davvero difficile la mia scommessa questa favola dello scorso anno che bitcoin non superava i 67 mila dollari entro agosto 2021 è ancora in ballo perché manca un mese però l'avevo difficile ragazzi però non vorrei succedere queste cose perché questi mercati sono veramente incredibili bette veloci va bene allora cosa avete fatto voi siete riusciti a salire su questo carro come hanno agito e le vostre strategie di trading fatemi sapere io poi vi aggiorno anche sulle mie insomma tanto le mie sono pubbliche in academy quindi c'è poco del poco da aggiornare per gli iscritti lì va bene ok ragazzi allora ci vediamo nel prossimo video e forza bitcoin 6 cripto ancora una volta vediamo che cosa succederà per questa settimana nel frattempo ovviamente festeggiamo ciao